5, 5, 5 del numero 5 3, 3, 3, che è il numero 3 per voi 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 4, 4, 4, 4, è il numero 4 per voi quindi chiudiamo con il numero 4 con questi team quindi a seguire ci sarà il cambio della Andrea di là un tempo, svegliati stai lì, sui 5 arriviamo che il terzo numero 2, tra il secondo termine andiamo, 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 andiamo che chiudiamo il tempo 4, 4, 4, 4, è il numero 4 per voi in Andrea, Patrizia e Giacomo rimane in posizione di Zombeck Giovanni Campanaro 5, 4, 3, 2ł Pенный, motorsport, pagano 2, 2, 2 il terzo numero 2 Modena Gio, come sono fanzzi Il primo capo 9, 9, 9 Vitello numero 9 per voi E con il primo capo Manca il secondo in questo momento E sono 30 secondi che mancano agli attenzione Sono 30 secondi che arrivano al termine della prova Arriva anche il terzo capo valido E venivo per condire la prova della cusola 1, 1 Vitello numero 1 per voi Ce l'hai adesso Andrea? Vai, vai Umbi, vai Umbi Aspetta, aspetta, aspetta Vai Mori Vai, vai Lattare 30 secondi alla termine Ma sono 30 secondi alla termine Vai, vai, vai Vai Lattare Adesso il gruppo di Adesso i punti e 3 E il primo e il secondo E il primo e il secondo E il primo E il primo E quando volete 8, 8, 8 Vi chiedo numero 8 per voi Vai Santo Vai Santo Torna Santo Vai vai Santo Vai apre le torbe Vai avanti Santo Avanti Vai Santo Vai Siamo a due campani Vai Santo Vai Siamo pronti A chiuda 1-1-1, 1-1 del gol 3 secondi alla stagione, i tre campi davanti al pen 8-8-8, il numero 8 per voi e siamo viti con la nostra Patrizia già in Madrid e a vestirete fuori il primo capo valido in Madrid in questo momento il nostro Moris mentre il giovane di Campanaro rimane a guardia tirano fuori in secondo si entra i nuovi in Madrid si cercano gli altri capi validi ecco il giovane di Campanaro lo prende e non lo colla il nostro Moris a campo con 3 secondi al termine andiamo a vedere come possono chiudere il gol questi ragazzi è che freddo grazie Torbeck, vieni quando volete 9-9-9 del 1-1-9 per voi 2-1, 2-1, 2-1 purtroppo valido arriva il secondor e quindi il terzo andiamo e andiamo a vedere come chiudre 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3-3 3-3-4-3 3-3-3-3 3-3-3-3 3-3-3-3-3 arriva anche il terzo no, sono ancora passati tre secondi che stavano in lotto vai vai giù, vai giù tre secondi al termine andiamo il terzo numero zero un buon Enverto ce l'hai davanti vai di là vai di là vai di là arriva anche il terzo è il momento di spingere, spingere, spingere per andare a scopare il vento passa il lutello tra Gio tra Gioberto e il corridoio piccolo entra in casamento 8, 8, 8 il terzo numero 8 per voi due lì ce n'è due piccolo raggio di là vai riprendelo te occhio Andrea vai di là guarda Torna subito, forte e torna! Dai salto! Vai, dirlo! Io non vedo, armi, vai, un secondo! Chi ce l'ha all'altro due, eh? All'altro due? Trista! E' lì, c'è l'altro due! Dai! Armi, al terzo! Sto fanno un po' 20 secondi all'altro termine! Sto fanno!